Rientriamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, incontro tra la provincia di Sassari e alcune istituzioni catalane, visita nel capologo turritano organizzata dalla Camera di Commercio, si è discusso delle varie opportunità per il territorio del nord ovest in connessione con la Catalogna. Mettere a frutto i fortissimi legami culturali tra il nostro territorio e la Catalogna per stringere un'alleanza strategica tra partner in grado di accrescere le reciproche possibilità di accedere ai finanziamenti comunitari sulla base di progetti solidi e credibili. È la proposta che l'assessore provinciale della programmazione delle politiche comunitari Enrico Daga ha rivolto ai rappresentanti delle istituzioni politiche ed economiche catalane e di Girone in particolare, che nel corso della loro visita a Sassari organizzata dalla Camera di Commercio hanno fatto tappa nel palazzo della provincia. Le strettissime affinità con Alghero devono diventare lo strumento attraverso cui fare della Catalogna un interlocutore privilegiato per tutto il territorio del nord ovest, ha detto Daga, nel corso dell'incontro. Oltre agli scambi di natura culturale che sono destinati a intensificarsi, ha aggiunto, bisogna ragionare insieme sempre più intensamente su temi cari a entrambi i territori, dall'innovazione alla sostenibilità all'agroalimentare fino al turismo. Per lavorare a questo obiettivo l'assessore ha confermato che la provincia è pronta a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione intrapresa con Fabrica Europa, iniziativa che vede alleati provincia, Camera di Commercio e Università di Sassari e che fonda proprio sulla necessaria collaborazione tra istituzioni politiche, mondo economico e mondo della ricerca e della cultura. Martedì prossimo, 29 novembre, anche la struttura ospedaliera di Alghero aderirà alla settimana dell'AIRS per la lotta all'assordità con una giornata. Nell'unità complessa di Otorino-Laringoiatria saranno dunque effettuati controlli gratuiti. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'unità, dottor Sebastiano Carboni. Sebastiano Carboni, lei è il direttore dell'unità complessa di Otorino-Laringoiatria qui all'ospedale civile di Alghero. Il 29 di questo mese è una giornata importante, è la giornata dedicata all'assordità. Sì, anche quest'anno, come tutti gli anni ormai, anche la nostra unità operativa è sensibile all'iniziativa dell'AIRS, che è l'associazione che a livello nazionale si occupa del problema e aderisce in pieno e con molto entusiasmo alla giornata per la prevenzione dell'assordità. Cosa deve fare l'utente? Semplicemente telefonare ai numeri della nostra unità operativa e prendere un appuntamento che gli verrà dato senza nessun'altra intermediazione. Insomma, è un appuntamento diretto, si verrà qui, si verrà sottoposti a una breve visita a Otorino e dopodiché si farà un esame audiometrico e impedenzometrico volto a verificare la presenza o meno di problematiche di tipo uditivo. È importante la prevenzione anche rispetto all'utorino, la linguiatria? È importantissima perché questa giornata tende ad accogliere soprattutto persone che non hanno una patologia già diagnosticata, ma sarebbe più importante che si avvicinassero a questo screening delle persone o che, pur essendo apparentemente normaudenti, ma che possono avere in famiglia dei parenti portatori di ipoacusia oppure che sospettano anche soltanto di avere qualche problema di udito, anche se poi non lo hanno mai verificato con un esame che tende a valutare l'effettiva funzionalità dell'apparato uditivo. Quindi questa giornata è particolarmente rivolta a questo tipo di utenza, non ai pazienti che già sanno di essere ipoacusici o portatori di protesi acustiche o di qualunque altra patologia che magari è stata anche risolta chirurgicamente, eccetera. Ci piacerebbe soprattutto che alla manifestazione aderissero anche soggetti giovani, perché, come si dice in qualunque branca della medicina, la prevenzione è meglio che la cura. Sono rimasti incollati per ore ai tavoli a parlare di modelli economici, progetti tecnici, mercato e concorrenza, problemi risolti, tecnologie disponibili. A fine serata hanno esposto le loro idee a un team di esperti, argomentandole con dati a supporto e previsione di scenari. Sono i visionari di To Do Startup, evento organizzato sabato 19 novembre dall'Associazione di Promozione Sociale Sardegna 2.0 all'interno delle strutture di Porto Conte Ricerche. Una giornata feriale da dedicare al proprio futuro, con l'obiettivo di dare vita alla prima palestra imprenditoriale della Sardegna. Esperimento riuscito, a quanto pare, anche grazie all'entusiasmo e alla voglia di fare di numerosi imprenditori e liberi professionisti arrivati da tutta l'isola, grazie alla passaparola sul web e al successo dei precedenti appuntamenti a Tramazza il 20 aprile e a Cagliari il 19 luglio scorsi. Ieri, 22 di novembre, è stata una giornata importante per la banda musicale di Alerci, si è infatti festeggiata Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Come ogni anno, la banda dedicherà alla sua santa protettrice un concerto, venerdì 25 novembre, presso l'auditorium del liceo scientifico Fermi. Domenica mattina, invece, a partire dalle 11.30, processione Santa Messa. Ieri, 22 novembre, è stata una data molto importante per la banda musicale di Alerci, si festeggia infatti Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Come da tradizione centenaria, la banda le dedicherà un concerto, seguito la domenica, da processione Santa Messa. I festeggiamenti avranno inizio venerdì 25 novembre, alle ore 20.30, presso l'auditorium del liceo scientifico Fermi, dove la banda da Alerci, presieduta da Salvatore Camerada, in versione orchestrale, eseguirà il concerto a Santa Cecilia, con un vasto repertorio musicale che spazierà dalla musica leggera alle melodie più classiche. L'ingresso è gratuito. Durante la serata, presentata da Gian Pietro Moro, verrà inoltre assegnato il premio Santa Cecilia a un personaggio che si è distinto nella carriera musicale, dando grande rilievo alla musica popolare algherese. La direzione artistica è affidata al maestro Pietro Dore, docente dei corsi bandistici gratuiti finanziati in parte dalla regione Sardegna e in parte dalla stessa associazione. Tra l'altro il maestro collabora con diversi musicisti in campio nazionale e con l'orchestra filarmonica della Sardegna. Come detto, la festa prevede due giornate. Dopo la serata del concerto di venerdì, seguirà domenica 27 novembre alle 11.30, con partenza dalla cattedrale, la processione per le vie del centro storico, accompagnata dai gremi e bandiere e dalle autorità civili e religiose. Al rientro sarà celebrata la Santa Messa. È davvero tutto, il telegiornale termina qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Arrivederci.